La rega na te se ne approfitta. Al trentasettesimo lo specialista Jacoponi impegna severamente Bocca Nera sul calcio piazzato dal limite dell'aria. Un minuto dopo ci prova l'ex canarino Bozzani. Tiro forte dal limite, ma ancora lo strepitoso Bocca Nera ci mette una pezza. Al quarantaduesimo Bellucci si invola sull'alto destro. Tocco sotto di quest'ultimo, ma Bocca Nera è reattivo a sbarrare la strada al giocatore giallorosso. Distanzi, ma Bocca Nera è superlativo e respinge. Ma questa volta l'estremo giallo-blu riesce a chiudere lo specchio. Nell'ottavo ci vuole il miglior Bocca Nera per fermare Maschio, lanciato a rete dall'ottimo esposito. Due calci d'angolo consecutivi. In occasione del primo, Maschio viene fermato con una deviazione di un difensore. Sul successivo corner, Berretti spara a botta sicura, ma Bocca Nera compie l'ennesimo miracolo. Sous-titrage Société Radio-Canada